Ragazzi benvenuti in un nuovo video del Gobbo Toscano Oggi si sta parlando di Oilund alla Juventus per una possibile cessione di Vlaovic che la Juventus vorrebbe scatenare questa famosa asta per l'attaccante serbo Oilund Io ho informazioni di cui ovviamente non posso far nomi delle persone che mi informano perché è giusto così Oilund ha due possibilità Allora, primo alla Juventus non interessa Oilund ha quelle cifre lì Oilund non è nel taccuino degli acquisti possibili della prossima stagione della Juventus Oilund ha due strade o rimane un altro anno all'Atalanta Seconda opzione Manchester United per circa 70 milioni di euro Quindi vediamo un po' quello che succederà ma quello che vi dico che secondo me e per quello mi viene detto a me categoricamente ovviamente non do mai il 100% perché non si sa neanche noi non si sa neanche la signora ma arriva una tegola in capo o un piccione mi caga su un orecchio ma quello che vi dico io è che molto probabilmente c'è il 99% alla Juventus non andrà perché la Juventus non lo ha cercato e sa che il prezzo fissato all'Atalanta è alto e c'è questo interessamento da parte dello United si parla di ben 70 milioni di euro quindi le strade sono due o rimane alla Dea o se ne va in Inghilterra Sponda Manchester United rimanete collegati mi raccomando aggiornamenti costanti e poi 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 a breve a breve tantissime novità sul canale non ve le perdete mi raccomando la prima sarà questo venerdì venerdì 30 giugno l'ultimo giorno prima del vero calciomercato dove ci saranno delle grandi novità non ve le perdete rimanete collegati iscrivetevi like e campanella attiva ciao